Viaggiava sulla moto condotta dal marito Daniela Primon. L'incidente è nella mattinata di sabato 1 ottobre sulla A13 tra Ferrara e Bologna, quando era stata sbalzata di sella per alcuni metri dopo che il mezzo aveva tamponato un'auto. Dopo sette giorni è morta nella terapia intensiva dell'ospedale di Bologna dove era stata ricoverata in condizioni disperate senza mai riprendere conoscenze a Daniela Primon. 65 anni, medico fisiatra, era stata direttore del dipartimento strutturale di riabilitazione dell'ULS 15 Alta Padovana. Grande il dolore in tutta la sanità padovana di cui era stata punto di riferimento facendo crescere generazioni di allievi.